Prima di esaminare le singole subordinate, cioè qual è il loro significato, è bene avere ben chiari alcuni aspetti generali che abbiamo affrontato nelle lezioni scorse. Allora, prima di tutto ricordati cosa sono le proposizioni subordinate. Sono delle proposizioni che arricchiscono il significato della principale, aggiungono delle informazioni, dicono qualche cosa in più. In questo modo il significato della principale è più chiaro, è più preciso. Anzi, noi ci accorgeremo che alcune volte è necessario mettere qualche proposizione perché altrimenti il significato della principale risulterebbe troppo povero, troppo geniali. Quindi per capire qual è la loro funzione dobbiamo tornare un pochino indietro all'analisi logica della frase. E allora partiamo da quello che è l'elemento principale dell'analisi logica della frase, dunque il predicato, cioè il soggetto. Pino è felice per la fine della scuola. Se tu dovessi analizzare, dovessi fare l'analisi di questa frase, la prima cosa che faresti sarebbe individuare il predicato, è felice, predicato nominale. Poi ti faresti la domanda, chi compie l'azione di essere felice? E troveresti il soggetto. Pino. Pino, soggetto, compie l'azione di essere felice. Perché Pino è felice? Per la fine complemento di causa. Mi viene detto il motivo per cui Pino è felice, è la causa. Ma la fine di che cosa? la fine della scuola, che allora è un complemento di specificazione. Questa sarebbe l'analisi logica della tua frase. Pino è felice perché è finita la scuola. Proviamo a fare l'analisi del periodo di questa frase. Al solito devo individuare i predicati. È felice è un predicato. È finita è un altro predicato. Quindi due predicati, due proposizioni. Individuiamo la principale. Pino è felice perché è finita la scuola. Pino è felice, punto. Posso mettere il punto qua. Si può stare da sola, sì. Allora questa è la frase principale. Perché è finita la scuola è una subordinata, una subordinata di primo grado. Perché? Perché è subito attaccata alla principale, perché dipende dalla principale. Bene, soffermiamoci un attimo su questa seconda proposizione. Pino è felice, abbiamo detto che è la principale. Perché è finita la scuola è la subordinata di primo grado. Vedete però che perché è finita la scuola mi dà il motivo per cui Pino è felice. Allora il meccanismo è lo stesso, è lo stesso di prima. Io individuo una principale e poi individuo una secondaria che ha una sua funzione. La subordinata ha la funzione di spiegarmi la causa per cui Pino è felice. Allora cominci a vedere che il meccanismo delle due analisi è lo stesso. Facciamo un altro esempio. La mamma aspetta l'arrivo del treno. Stesso procedimento di prima. Aspetta. Chi compie l'azione di aspettare? La mamma. E poi diremmo che cosa aspetta la mamma? La mamma aspetta l'arrivo, che quindi diventa un complemento oggetto. Ma l'arrivo di che cosa? Del treno. E allora ecco che abbiamo un altro complemento di specificazione. Ma se noi facciamo l'analisi del periodo che c'è qui sotto, vedi che il meccanismo è lo stesso. Individuiamo i predicati. Aspetta. Arrivi. Sappiamo che dobbiamo quindi dividere in due proposizioni. Qui c'è il che. La principale è la mamma aspetta. E questa è una subordinata. Una subordinata di primo grado. Quindi la mamma aspetta principale che arrivi il treno subordinata di primo grado. Ma ti ricordi che l'arrivo era il complemento oggetto? La mamma aspetta che cosa? Che arrivi il treno. Guarda un po'. Anche questo sembra rispondere alla domanda che cosa? Allora abbiamo capito che per poter assegnare ad ogni subordinata il suo ruolo, la sua funzione, dobbiamo avere ben presente l'analisi logica. E allora, adesso che abbiamo capito il meccanismo in generale, affrontiamo prima delle subordinate. Abbiamo detto che l'elemento principale dell'analisi logica è il soggetto, quindi andremo a capire qual è la subordinata che si chiama soggettiva. È prudente uscire con l'ombrello. Se tu dovessi fare l'analisi logica della frase, divideresti in questo modo la frase per poi dire che il predicato è questo, perché è la prima cosa che si deve trovare. È prudente. Predicato nominale. Chi compie l'azione di essere prudente? L'uscire. Se ti ricordi, qualsiasi parte del discorso può essere un soggetto e quindi anche un verbo all'infinito. Con l'ombrello è un altro complemento che sarà un complemento di unione. Quindi, è prudente, predicato nominale, uscire soggetto con l'ombrello. Facciamo invece l'analisi del periodo. È prudente, è un predicato, uscire, è un altro predicato. Quindi, io so che questo periodo sarà diviso in due. Una principale è prudente e una subordinata di primo grado. Subordinata di primo grado implicita. Queste sono le cose che dovresti già sapere. Subordinata perché è una frase che da sola non ha nessun significato. Uscire con l'ombrello. Cosa vuol dire uscire con l'ombrello? Niente. Di primo grado perché è retta subito dalla principale. Quindi è il primo gradino della scala. Ti ricordi la scala? Quindi, subordinata di primo grado. E poi sappiamo che è implicita. Perché? Perché il suo predicato è all'infinito. Aggiungiamo l'elemento nuovo di oggi. Uscire con l'ombrello non è altro che il soggetto della principale. è prudente. Ma chi compie l'azione di essere prudente? L'uscire con l'ombrello. Cioè, l'azione di uscire con l'ombrello è prudente. E allora io la chiamerò soggettiva. Quindi, la proposizione soggettiva fa da soggetto alla sua reggente. Come faccio ad avere una prova di questo? Oltre al mio ragionamento logico, che è sempre la cosa migliore che puoi fare, controlla che nella reggente non ci sia il soggetto. C'è il soggetto qui dentro? No. È prudente. Non c'è nessun soggetto. Perché? Perché il soggetto è questo. Uscire con l'ombrello. Vediamo insieme queste due frasi. Quindi, sarei contenta, è un predicato. Amassero, è l'altro predicato. Benissimo. Allora, individuiamo la principale. Sarei contenta, perché qui poi c'è un se, quindi ormai abbiamo imparato benissimo a dividere il periodo. Sarei contenta, principale. Se tutti amassero la grammatica. Questa io posso già dire che è una subordinata di primo grado. In questo caso esplicita, perché ho un congiuntivo. Può essere una soggettiva? No. Perché, guarda, sarei contenta contiene già il soggetto. Chi è il soggetto di essere? Io sarei contenta. Quindi questa non può essere una proposizione soggettiva. Vedi che quello che abbiamo detto prima funziona. Quindi, se io mai dovesse avere un dubbio, la prima cosa che devo fare è controllare se nella reggente il soggetto c'è. In questo caso c'è. E questa non può essere una proposizione soggettiva. Sarà qualcosa d'altro. Guardiamo la seconda. Quando arriverà l'autunno sarà possibile raccogliere le castagne. Sarà possibile è la principale. Andiamo a vedere le altre due. Quando arriverà l'autunno? È sicuramente una subordinata di primo grado, perché sarà possibile quando arriverà l'autunno. La principale è la sua reggente, quindi primo grado. Arriverà è un modo indicativo, quindi è esplicita. Può essere il soggetto della frase? Proprio no, ma qui lo capisci subito per logica. Che tipo di indicazione mi sta dando? Mi sta dando un'indicazione di tempo, non mi sta dicendo chi è il soggetto. Per cui, per adesso, la lasciamo così. Andiamo a vedere l'altra. Sarà possibile raccogliere le castagne, quindi sicuramente una subordinata. Di primo grado, perché dipende dalla principale. Ti ricordi che io posso avere più proposizioni subordinate di primo grado anche se non sono coordinate tra di loro. L'importante è che tutte abbiano come reggente la principale. Raccogliere è un modo infinito, quindi questa sarà implicita. E adesso vi faccio la famosa domanda. Sarà possibile? C'è il soggetto qui dentro? No. Chi compie l'azione di essere possibile? Raccogliere le castagne. E questa sì, che è una soggettiva. Quindi non è difficile. Se ti ricordi bene quello che hai imparato sull'analisi logica, vedrai che molto di quello che hai imparato per analizzare la frase ti servirà anche nell'analisi del periodo. Quindi, ricapitolando, abbiamo detto che la subordinata soggettiva svolge la funzione di soggetto della sua reggente. Reggente dentro la quale il soggetto non ci deve essere. Facciamo un passetto avanti. L'altra cosa che si impara subito dopo il soggetto è il complemento oggetto nell'analisi logica. Quindi anche noi adesso esamineremo una subordinata che si chiama, guarda un po', oggettiva. l'allenatore ha dimostrato la sua bravura. Se tu dovessi fare l'analisi logica di questa frase, allora prima individui il verbo ha dimostrato il predicato verbale. Chi compie l'azione di avere dimostrato? L'allenatore. Quindi l'allenatore è il soggetto. L'allenatore, soggetto, ha dimostrato che cosa ha dimostrato la sua bravura. E tu qui scriveresti complemento oggetto. Perché? Perché risponde alla domanda chi che cosa ed è collegato al predicato senza bisogno di alcuna preposizione. È un complemento diretto. Proviamo a fare la stessa cosa con l'analisi del periodo. L'allenatore ha dimostrato che è stato bravo. Ha dimostrato è un predicato. È stato bravo è un altro predicato. Qui c'è un che. Quindi io so già che il mio periodo va diviso in questo modo. L'allenatore ha dimostrato è la frase principale. questa è sicuramente una subordinata e io posso già dire che è una subordinata di primo grado perché vedi è direttamente collegata alla principale che è esplicita perché il verbo è all'indicativo e adesso poniamoci la domanda che cosa ha dimostrato l'allenatore ha dimostrato che è stato bravo. Infatti è una subordinata oggettiva cioè questo è un po' come se fosse il complemento oggetto della principale. l'allenatore ha dimostrato che colla che è stato bravo. Puoi confonderla con una soggettiva no perché qui il soggetto c'è è questo è l'allenatore l'allenatore compie l'azione di dimostrare quindi io non ho bisogno di una subordinata che svolga la funzione di soggetto ma ho trovato una subordinata che svolge la funzione di complemento oggetto. Analizziamone qualcun'altra ancora insieme credo che tutti abbiate capito ricordati è sempre prima i predicati credo che tutti abbiate capito divido qua perché qui ho un che questa è la mia principale e adesso vediamo che cos'è questa partiamo dagli elementi che ormai sono consolidati è una subordinata sicuramente è di primo grado sicuramente è esplicita c'è il soggetto qua certo che c'è io io credo quindi già abbiamo escluso la soggettiva ma che cosa io credo io credo che tutti abbiate capito e allora è un'oggettiva perché perché svolge la funzione di complemento oggetto della sua reggente io credo che cosa che abbiate capito attenzione questo che nelle oggettive è sempre una congiunzione non sarà mai un pronome relativo questo è un altro dei campanellini d'allarme che devi tenere ben presenti veniamo alla seconda frase la prof mi ha consigliato di ripassare ha consigliato e ripassare la prof mi ha consigliato sbazzetta qui abbiamo la preposizione questa è la principale questa è una subordinata di primo grado in questo caso implicita che cosa mi ha consigliato di fare la prof di ripassare quindi ho trovato la mia oggettiva oggettiva esplicita oggettiva implicita qui il soggetto c'era già era la prof quindi nessun dubbio veniamo all'ultima sentivo la grandine picchiare sul tetto sentivo picchiare due predicati due proposizioni sentivo la grandine questa è la mia principale questa è sicuramente una subordinata di primo grado in questo caso implicita perché ho il verbo all'infinito sentivo che cosa sentivo la grandine è già la risposta è già all'interno della mia proposizione quindi questa non è una proposizione oggettiva funziona la stessa cosa che abbiamo detto per il soggetto se c'è il soggetto nella reggente non posso avere una soggettiva ma se c'è l'oggetto nella reggente non posso avere un'oggettiva quindi ti ho fatto questo esempio proprio perché tu capissi di non cadere nelle trappole adesso facciamo così io ti ho preparato delle frasi tu ferma il video sul tuo quaderno fai l'analisi e poi riprendi il video che facciamo la correzione insieme partiamo dalla prima molti pensano che Roma sia la città più bella del mondo pensano sia due predicati devo dividere qui la mia frase e ho la principale molti pensano e una subordinata di primo grado sia è un verbo al congiuntivo esplicita molti pensano che cosa pensano che Roma sia la città più bella del mondo oggettiva è chiaro? qui c'è il soggetto ma non c'è il complemento oggetto perché? perché il complemento oggetto diventa questa proposizione fu annunciato che ci sarebbe stato uno sciopero fu annunciato è un predicato ci sarebbe stato è un altro predicato io io qui oltretutto ho un che che mi fa subito capire che devo dividere così fu annunciato è la mia principale questa è sicuramente una subordinata di primo grado esplicita perché ho il verbo al condizionale e ora passiamo alle domande chi compie l'azione di essere annunciato che ci sarebbe stato uno sciopero quindi soggettiva facciamo la prova andiamo a vedere c'è il soggetto qui dentro no fu annunciato fu annunciato viene usato in modo impersonale fu annunciato non ho il soggetto quindi il soggetto della reggente è questo che ci sarebbe stato uno sciopero stai attento a non fare l'errore che oimè capita anche nell'analisi logica di partire dal predicato chiedersi subito che cosa e dire ah ecco ho trovato il complemento oggetto no ricordati sempre che sia nell'analisi logica sia nell'analisi del periodo quando sei davanti a un predicato devi sempre porti il problema del soggetto quindi prima risolvi il problema del soggetto perché una volta che hai risolto quello tutto il resto sarà più facile e difficilmente lo sbaglierai teo adora leggere e giocare a tennis io qui ho ben tre predicati adora leggere giocare quindi teo adora leggere e giocare a tennis teo adora è la mia principale c'è soggetto sì c'è teo basta quindi io soggettive non ne ho che cosa adora teo teo adora leggere allora questa sarà subordinata di primo grado implicita perché il verbo è all'infinito e siccome risponde alla domanda che cosa è una oggettiva svolge la funzione di complemento oggetto perché ho messo giocare a tennis sullo stesso gradino e non un gradino sotto perché questa è una coordinata alla subordinata di primo grado infatti anche lei è un oggettiva teo adora che cosa leggere teo adora che cosa giocare a tennis quindi io le devo tenere allo stesso livello perché sono due coordinate tra loro così abbiamo ripassato anche le coordinate e veniamo all'ultima occorre mangiare la frutta per mantenersi in forma occorre è un predicato mangiare è un altro predicato mantenersi è un altro predicato quindi io divido la mia frase in questo modo e avrò occorre che è la principale c'è il soggetto qui dentro? no chi compie l'azione di occorrere ma è di mangiare la frutta e allora avrò subordinata di primo grado implicita perché il verbo è all'infinito soggettiva perché mangiare la frutta è ciò che occorre cioè quello che compie l'azione espressa da questo predicato mangiare la frutta per mantenersi in forma dipende da questa qua quindi sarà di secondo grado anche lei implicita compie qualche funzione che abbiamo studiato al soggetto proprio no perché ce l'abbiamo già qui risponde alla domanda che cosa mangiare la frutta che cosa no no assolutamente quindi per ora non la conosciamo anche se in realtà se sei bravo nell'analisi logica avrai già capito qual è la funzione che svolge ma per ora la lasciamo vuota quindi principale soggettiva e ancora misteriosa cosa abbiamo imparato in questa lezione abbiamo imparato a riconoscere le subordinate soggettive e le subordinate oggettive abbiamo ripassato un po' degli elementi che già sapevamo ma soprattutto abbiamo ripassato questo concetto che io per poter fare un'analisi corretta devo sempre individuare il predicato il soggetto e poi farmi le domande giuste ti aspetto alla prossima